Guardi, sul patto di stabilità, in parte le ho già detto, lo stato delle cose. Si fanno dei passi in avanti giorno dopo giorno. In una trattativa che chiaramente è facile non è, noi partiamo da necessità che sono diverse. Ma avere la capacità di chiarire intanto quali siano le proprie necessità aiuta anche a cercare delle soluzioni di sintesi. Lei sa che la posizione italiana richiede non una politica di bilancio allegra, che noi non abbiamo fatto e non stiamo facendo in Italia. Siamo una nazione seria, un governo serio che seriamente sta affrontando le dinamiche di bilancio. Noi abbiamo un problema di protezione degli investimenti, che riguardano anche scelte strategiche che ha fatto l'Unione Europea, la transizione verde, la transizione digitale, il Next Generation EU, la difesa. Secondo noi è importante che le nuove regole della governance tengano conto degli sforzi che le nazioni stanno facendo per favorire quelle transizioni, per favorire quelle scelte strategiche nel quadro chiaramente di una politica di bilancio che deve essere seria. La posizione della Germania, come voi sapete, è una posizione che richiama soprattutto al tema del rientro del debito. E stiamo cercando piano piano di trovare quale possa essere il punto d'incontro migliore per un patto di stabilità e crescita che però deve essere possibile rispettare. Proprio perché il nostro è un governo serio, stiamo lavorando per ottenere una soluzione che sia possibile, non dico facile, ma possibile da rispettare per i prossimi anni. Serve a noi, ma serve all'Europa nel suo complesso. Grazie.